La battaglia ad Aleppo continua. Il presidente Assad usa parole durissime e annuncia che i ribelli saranno sconfitti, costi qualche costi. E nella città i miliziani dell'esercito libero siriano vivono braccati dalle forze eroe di Damasco, che con i loro oggetti li inseguono giorno e notte. I combattenti non si arrendono, ma intanto mandano un messaggio alla comunità internazionale. Forse il resto del mondo, spiega il comandante Abu Muhammad, si preoccupa per noi, ma qui non vediamo alcun aiuto. Abbiamo bisogno di una no-fly zone e di armi. In queste condizioni un solo nostro battaglione potrebbe chiudere la partita. Nonostante dichiarano che i due terzi di Aleppo siano sotto il loro controllo, le forze ribelli si devono muovere al buio e anche le luci delle telecamere devono essere spente. I combattenti sono giovani e invocano Allah. Al momento è difficile capire quanto forte sia la componente islamica del movimento, anche perché non è facile identificare un'unica guida. E questo ha ripercussioni anche sull'efficacia dell'azione bellica dei ribelli. Nella notte i combattimenti proseguono e i veicoli dei miliziani portano i segni delle sparatorie. La minaccia non si vede, ma è un caccia di cui, nel buio difensivo, si sente minaccioso di rombare. La guerra civile qui in Siria si combatte anche colpi di propaganda, con la TV di Stato impegnata a diffondere la propria verità. Ma da Aleppo sul campo i problemi sono più concreti e implicano coordinamento delle azioni e passaggio di informazioni. E mentre i miliziani pregano, i fucile tendono fuori dalla moschea e la Siria non smette di sanguinare.